Diario del Capitano, data astrale 2713.4. Abbiamo ricevuto un segnale dal pianeta Exo 3. Il dottor Roger Corby è stato localizzato. Lui e parte della sua spedizione sono rimasti vivi grazie alla scoperta di rovine sotterranee lasciate dai primi abitanti di questo mondo. Enterprise chiama Corby. Abbiamo localizzato con esattezza le coordinate di atterraggio. Forse le interesserà sapere che a bordo abbiamo... Ho da farle una richiesta abbastanza insolita, Capitano Kirby. Può scendere lei soltanto. Ho fatto delle scoperte di una tale natura che forse richiederanno una decisione straordinaria. Non mi piace questa richiesta. Ma è il dottor Roger Corby a farla. Hai riconosciuto la voce del dottore? Non è mai stato innamorato, signor Spuck. Sì, è Roger. D'accordo, dottore. Comunque verremo in due. Ciao, Roger. Christine. Sì, Roger. Tesoro, come stai? Sì, sì, certamente, Capitano. Io non avevo idea. Non speravo. Tesoro, stai bene? Sì, Roger. Va tutto bene ora. Saremo da lei tra un minuto. Il tempo di arrivare. Enterprise chiudo. Energia. Saremo da lei tra un minuto. 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 Saremo da lei tra un minuto.